La storia di MBE in Italia è quella di un viaggio iniziato nel 1993 con una chiara visione. Semplificare l'attività delle piccole e medie imprese e moltiplicarne le opportunità di business. MBE festeggia in Italia quest'anno il trentesimo compleanno. E siamo parte di una piattaforma multibrand che ci vede presenti in 52 paesi del mondo. MBE è People Possible. Attraverso le persone moltiplichiamo le opportunità per il business. Con coraggio, tenacia e competenze. Guidati quotidianamente dalla passione per ciò che facciamo. Ma questo è solo l'inizio. Perché il futuro è una storia che costruiremo insieme.